E' pronto per l'approvazione il progetto definitivo della nuova strada che collegherà a Roveredo in Piano, in prossimità del centro commerciale, alla zona industriale nord a San Quirino. Il progetto, realizzato dalla provincia di Pordenone, prevede un investimento di 5 milioni di euro. A illustrarlo è stato l'assessore alla viabilità Antonio Consorti, durante un incontro tecnico con i comuni interessati. Arriviamo in questo momento alla fase definitiva di un progetto che fa parte integrante del famoso progetto Aviano 2000, l'ultimo, il secondo lotto della pista carri, mette in collegamento Roveredo con San Quirino, ma proprio per questo motivo cerca di portare a termine quello che è il famoso congiungimento dell'asse di Guadi, ma soprattutto quello che in qualche modo è sempre stata pensata come una sorta di ponte bana nord. Oggi l'assessore ci darà conferma di quelle che sono le condizioni, sapendo che nel bilancio della provincia è questa opera prevista, una delle due più importanti previste appunto nel 2015. In buona sostanza questi mesi serviranno per approfondire tutte quelle procedure, quegli atti amministrativi, tra cui le espropriazioni ad esempio, che ci consentiranno di arrivare in tempo utile e, come si dice, marcare la mappa temporale per arrivare all'appalto delle opere. Grazie. 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 Grazie.